0.24.4.1 invito il ritiro a parere contrario, 0.24.4.2 invito il ritiro a parere contrario, 0.24.4 invito il ritiro a parere contrario, 0.24.5.1 invito il ritiro a parere contrario, 0.24.5.2 invito il ritiro a parere contrario, 0.24.5.3 invito il ritiro a parere contrario, 0.24.5.4 invito ritiro parere contrario, 0.24.5.5 invito ritiro parere contrario, 0.24.5.6 invito ritiro parere contrario, 0.24.5.7 invito ritiro parere contrario, 0.24.5.8 invito ritiro parere contrario, 0.24.5.9 invito ritiro parere contrario, 24.5, Costantino, favorevole. Grazie, il Governo. E per favore liberiamo il Banchi del Governo. Sì, grazie, Presidente. Pareri sono conformi a quello del relatore. Grazie. Allora, siamo allo 0.24.1.2, Crippa ed altri. I pareri sono contrari, non ci sono interventi. Dichiaro aperta la votazione. Montroni. Montroni ancora. Qualcun altro? Allora, chi altro non riesce a votare? Tripiedi, Matarrelli. Tripiedi ha votato. Bene. Dichiaro chiusa la votazione. 74 favorevoli, 317 contrari. La Camera...